Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di film, in particolare film da vedere ad Halloween. L'anno scorso avevo fatto dei video dedicati ai libri da leggere ad Halloween e quest'anno invece parliamo di film. Ho pensato di selezionare cinque film che secondo me sono da vedere ad Halloween. Il primo di questi è La sposa cadavere, è un film di animazione, io lo trovo molto romantico, molto profondo, è una fiaba gotica, una fiaba noir molto molto particolare. È la storia di Victor che è il figlio di Ricky Borghesi promesso sposo alla figlia di una famiglia di nobili decaduti. Lui è molto goffo e vuole allenarsi prima del matrimonio, quindi vuole fare le prove, si rifugia nel bosco e mentre fa le prove mette l'anello su un ramo, ma quello in realtà non è un ramo, è il dito di Emily, la sposa cadavere, che reclama Victor come suo sposo. Quindi poi da lì cominceranno ad accadere delle cose, ovviamente che non vi svelo qualora non abbiate mai visto il film, ma io lo trovo veramente un film profondo, delicato, particolare, che vi consiglio di vedere ad Halloween. Un altro film da vedere ad Halloween è Nightmare Before Christmas. È un film anche questo molto carino, è la storia di Jack, che è proprio il re della festa di Halloween, perché comunque è molto famoso Jack e la sua leggenda della lanterna. Se non sapete a cosa mi riferisco vi lascio il video nelle schede, perché l'anno scorso avevo parlato della leggenda della lanterna di Jack. Comunque lui è il re della festa, ci sono i festeggiamenti, ci sono cadaveri, ci sono mostri, dolcetto o scherzetto, ma lui in preda ad una crisi esistenziale vuole allontanarsi da quel caos. Si addentra nel bosco e lì trova una porta magica che lo conduce nel mondo del Natale, dove c'è invece calore, gioia e in qualche modo quello che lui stava cercando. E c'è anche una missione che deve portare a termine, perché si deve sostituire a Babbo Natale e occuparsi di tutti i preparativi per la notte più magica dell'anno. Quindi insomma, anche questa è una favola, una storia molto carina e anche questa abbastanza profonda, anche se per i miei gusti è troppo cantata, è veramente troppo cantata. A me piacciono di più i film dove ci sono poche canzoni, qua invece ce ne sono tanti, però la storia è carina. Un altro film sempre di animazione, così concludiamo con quelli di animazione, che vi consiglio di vedere ad Halloween, è Hotel Transilvania. Anche questo è veramente molto carino, è la storia di Dracula che è rimasto vedovo, è rimasto a vivere nel castello con la figlia e ha sempre cercato di proteggerla dagli umani. Le ha sempre detto che sono pericolosi, che non l'avrebbero mai accettata nel loro mondo e quindi l'ha sempre tenuta chiusa nel castello. Però questa ragazza che si avvicina al suo centodiciottesimo compleanno vuole vivere, vuole scoprire il mondo, quindi in qualche modo chiede al padre di lasciarla andare nel mondo. Lui le concede di andare nel mondo ma in realtà la inganna perché le fa credere che gli umani non la vogliono. Quindi lei torna indietro delusa e decide che non andrà mai più via dal castello. Lui trionfante decide di organizzare una festa per il suo compleanno, invita tutti i mostri ma in qualche modo un umano riesce a intrufolarsi nel castello. Lui lo scopre ma per proteggere la figlia le fa credere che in realtà è uno di loro, che anche lui un mostro è venuto lì per aiutarlo a organizzare il suo compleanno. E poi accadranno delle cose che ovviamente non vi svelo perché se non avete visto il film è un peccato che io ve lo dica prima. Comunque anche questa è una fiaba, una favola molto carina sicuramente da vedere ad Halloween. Adesso cambiamo genere, si tratta di una commedia, si intitola Le streghe di Eastwich ed è la storia di tre donne, tre amiche che praticano la stregoneria, quindi si mettono a fare dei rituali particolari, dei riti voodoo, degli incantesimi e il loro scopo è quello di incontrare l'anima gemella. Attirano in realtà un uomo che non è proprio così buono come loro volevano perché in realtà si tratta del diavolo che è arrivato lì per ingannarle e per cercare di avere da loro un figlio, solo che si accorgono queste donne che c'è qualcosa che non quadra e quindi fanno di tutto per annientare questo uomo con incantesimi, formule magiche e rituali particolari. È una commedia, questo non è assolutamente un film horror, è una commedia però è fatta bene secondo me, molto carina, è un film un po' vecchio perché credo che sia degli anni 80 addirittura, però è veramente fatto bene secondo me, quindi se non l'avete mai visto guardatelo perché è un film che merita. L'ultimo film che vi propongo è invece un horror però è un horror degli anni 40, quindi è un film molto vecchio ma che secondo me merita di essere visto almeno una volta, si intitola La casa sulla scogliera. Il regista è Lewis Allen ed è un film veramente molto particolare, la storia di una coppia fratello e sorella che in qualche modo rimangono affascinati da una casa sulle scogliere della cornovaglia. La acquistano e una volta all'interno della casa cominciano a capire che ci sono delle cose strane perché tutte le notti si sentono dei lamenti e delle grida di fantasmi, ovviamente si spaventano, cominciano a capire che cosa potrebbe essere successo e capiscono che l'unico modo per scoprire davvero qualcosa è fare una seduta spiritica. Ovviamente essendo un film degli anni 40 se voi lo guardate oggi sicuramente non proverete le stesse sensazioni che hanno provato quelli che lo hanno visto negli anni 40, quindi quello che spaventava all'epoca probabilmente oggi non ci spaventa più, però è comunque un film particolare, intanto perché la censura inglese lo aveva diciamo bandito negli anni 40, avevano fatto tagliare delle scene, lo avevano come dire criticato tantissimo perché avevano considerato queste scene troppo spaventose, troppo paurose e poi era candidato addirittura all'Oscar per la miglior fotografia, quindi pur essendo un film molto vecchio io volevo citarvelo perché se magari siete amanti dei film di quell'epoca sicuramente questo è un film da vedere ad Halloween. Io ho terminato la mia carrellata di film da vedere ad Halloween, scrivetemi nei commenti che cosa mi consigliate voi invece di vedere in questo periodo, magari ci sono dei film che io non ho citato ma che voi mi consigliate di vedere, io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme!